Musica Buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento con Milano Pavia News. Sta aumentando il flusso dei profughi provenienti dall'Ucraina in arrivo nei nostri territori. Tra l'altro vi segnaliamo già che nel pomeriggio incontreremo i responsabili di Fondazione Arca che a Milano si stanno occupando dell'accoglienza, che sono appena tornati da una missione con il confine ucraino. Adesso però facciamo il punto della situazione collegandoci in diretta con Stefano Galimberti da Magenta. Buongiorno Stefano. Buongiorno Paolo, buongiorno ai telespettatori. Esattamente è giusto parlare prima di tutto di Milano perché Milano, come tutte le grandi città italiane, è quella che sta accogliendo il maggior numero di profughi provenienti dall'Ucraina. L'ultimo dato disponibile parla di ormai raggiunta quota 10.000 rifugiati in Italia, come detto in Lombardia, la città che ovviamente ne ospita di più è Milano, una situazione che ha già due risvolti. Da una parte il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha già avvisato o comunque avvertito che l'esodo dei profughi ucraini sarà probabilmente l'esodo più grande che Milano ricordi e che dovrà affrontare, per il quale in accordo con le prefetture si sta mettendo in piedi tutta la procedura di accoglienza e di alloggio di questi profughi. Ma dall'altra parte c'è ovviamente la questione sanitaria e cioè della pandemia da Covid-19 perché l'Ucraina è uno dei paesi con il minor numero di vaccinati, soprattutto se si confronta la percentuale ucraina con le percentuali italiane o comunque degli altri paesi europei. Per questo l'assessore all'UEFR Letizia Moratti ha già fatto sapere che a tutti i rifugiati verrà fornito gratuitamente un tampone e per quelli che ne sono sprovvisti di vaccino e qualora dovessero risultare positivi. Ovviamente il sistema di accoglienza dovrà anche contare e già organizzare dei luoghi dove sarà possibile far effettuare le quarantene ai profughi. Sul territorio come a Magenta dove ci troviamo la situazione è leggermente diversa nel senso che per ora non esistono dati ufficiali divisi per comune di quanti profughi ci sono o meglio lo si sa solo per quelli di cui il comune viene direttamente informato perché come abbiamo visto in queste settimane sono numerosissimi soprattutto i ricongiungimenti familiari e i comuni per arrivare a un conteggio hanno messo in piedi quello che è una procedura per identificare i profughi e ovviamente attivare tutte le procedure che riguardano il diritto d'asilo proprio per non doverli far spostare fino a Milano e soprattutto sopperire a quelle che possono essere delle difficoltà dovute alla lingua. A fianco a quella che è il tema dell'accoglienza continuano in tutti i comuni le raccolte volontarie organizzate dai cittadini che poi spediscono tramite dei pullman o dei camion, dei furgoni di aziende che già effettuavano il viaggio tra Ucraina e Italia per esempio per portare le badanti ora si sono riconvertiti per portare gli aiuti di cui i profughi al confine hanno bisogno e dall'altra parte continuano anche le manifestazioni contro la guerra in Ucraina manifestazioni che come è accaduto a Magenta poche ore fa hanno assunto anche una valenza interreligiosa soprattutto perché come a Magenta la comunità ucraina e in generale ortodossa è molto presente e quindi si è voluto dare un taglio oltre che pacifista anche un taglio di dialogo interreligioso visto che molti di questi profughi poi probabilmente resteranno in città ma vediamo cosa è successo a Magenta nelle scorse ore. Una manifestazione è quella che ha visto la città di Magenta riempire le strade contro la guerra in Ucraina che ha da subito voluto assumere il senso di una preghiera interreligiosa momento di riunione della comunità a cui hanno partecipato le autorità civili e religiose una rappresentanza dei cittadini ucraini di Magenta. Ecco perché occorre in qualche modo evocare evocare sta un po' anche per dire domandare, supplicare, intercedere, invocare questo dono della pace da chi? Io direi da quell'altro con la maiuscola che è Dio ma anche all'altro perché qualche volta sapete bisogna per fare pace essere in Ura e uno ti offre la mano devi anche rispondere uno ti lo chiede risponda Sono otto anni che l'Ucraina vive con la paura della guerra e adesso è arrivata sono preoccupata non dormo e non faccio altro che guardare i telegiornali e il telefono per capire cosa succede Anche Pavia continua l'arrivo di profughi che è ormai quotidiano andiamo a collegarci in diretta con Luca Pattarini buongiorno Luca Buongiorno Paolo, buongiorno da Pavia come dicevi da diversi giorni ormai anche qui e in provincia stanno arrivando ovviamente i rifugiati della guerra in Ucraina tra venerdì e domenica Pavia ne sono arrivate diverse decine anche qui ovviamente non si ha un numero preciso perché in molti casi si tratta di ricongiungimenti familiari di persone che tornano dai loro parenti insomma c'è chi ha la madre qui, la nonna, altri parenti quindi cercano un riparo proprio da loro come ci si sta muovendo lo avevamo annunciato nei giorni scorsi la comunità ucraina che fa riferimento alla chiesa ortodossa ha organizzato un momento di incontro proprio domenica in occasione della messa pomeridiana per parlare, per capire quali sono le esigenze di queste persone per consegnare insomma generi di prima necessità, vestiti sappiamo si tratta di persone che scappano dalla guerra quindi in molti casi hanno soltanto una valigia con pochi effetti personali domenica c'è stato appunto questo incontro sono stati consegnati i primi aiuti che erano stati raccolti dalle associazioni del territorio e dalle associazioni pavesi ma padre Toft che è il responsabile insomma della chiesa di San Giorgio ha sottolineato che quello che serve di più sono donazioni in denaro da poter mandare in Ucraina insomma per le persone che sono ovviamente ancora là nel frattempo sappiamo, abbiamo visto, abbiamo sentito diversi sindaci altri comuni del territorio altri comuni del pavese si stanno attrezzando stanno attrezzando le loro strutture, palestre, insomma spazi di proprietà del comune per accogliere altri rifugiati li stanno trasformando sostanzialmente in dormitori con letti, spazi appunto per potersi lavare perché lo sappiamo uno dei problemi principali se non il problema principale è quello della casa molte di queste persone non hanno un posto dove stare in molti casi i parenti non hanno a loro volta una casa ma lavorano come badanti o come persone che lavorano per delle famiglie quindi vivono in quelle famiglie quindi di fatto c'è questo grosso problema nel frattempo anche le istituzioni si stanno muovendo si stanno continuando a muoversi si stanno organizzando per cercare di capire anche qui in provincia di Pavia, nel pavese, nel capoluogo quante persone arriveranno staremo a vedere come si sviluppa questa situazione di certo noi vi porteremo tutti gli aggiornamenti del caso anche nelle prossime edizioni del nostro telegiornale La linea può tornare allo studio Grazie Luca e vi raccontiamo la storia di Don Pietro che è tornato a Voghera portando con sé 45 persone era partito con un carico di aiuti e è tornato con i profughi Quando lo raggiungiamo al telefono Don Pietro Sacchi è appena tornato dalla confine con l'Ucraina dopo un viaggio di 14 ore in compagnia di 45 profughi il parroco di San Pietro a Voghera è partito due sere fa con un pullman verso il confine ungherese con un carico di cibo e medicinali il gruppo Gavio ha sostenuto i costi di questo viaggio mettendo a disposizione il pullman della squadra di basket Bertram Dertona e tre autisti una volta consegnati gli aiuti Don Pietro ha preso con sé i 45 sfollati con cui è arrivato nella tarda mattinata di venerdì in Italia i profughi in maggioranza donne e bambini saranno accolti nelle case dell'Opera Don Orione a Tortone e a Fano in provincia di Pesaro Urbino Intanto Don, che esperienza è stata e come è andato? È stata un'esperienza bella, forte è un'esperienza dell'ultimo momento perché a stimolarla sono stati i confratelli di Leopoli in particolare Don Egidio Montanari che è stato anche parroco qui a Voghera dove sono parroco io adesso e le battute che mi hanno come dire fatto precipitare in una richiesta d'aiuti sono state troppe quelle che da parte sua mi mettevano alle strette dicendomi io pensavo, non so, di intervenire tra un dieci giorni quindici giorni e lui mi ha detto no, no, guarda fai domani o dopo perché stanno arrivando l'abbiamo messo in pratica subito e a rispondere all'appello c'è stata la generosità del dottor Beniamino Gabbia che ha messo a disposizione addirittura il pullman della squadra di serie A Bertona Basket ci hanno raccontato le loro storie sono dei civili a tutti gli effetti che tu trovi la domenica in chiesa li trovi al supermercato li trovi al bar delle persone normalissime con i loro bambini vestiti bene curati che avevano cioè non c'era un'immagine uno scenario da centro profughi o che so io da ambiente di soccorso arrivare di fronte a una situazione di una normalità te la virgoletto questa parola perché io mi do tutto per gli altri mondi di solito ad una normalità così evidente e così spregiata dallo scelto della guerra è stato agghiacciante sono arrivati da poco hanno fatto il primo pranzo italiano poco fa e si sono appena appena sistemati in una stanza ovviamente tutto questo dovrà avere un'evoluzione e non abbiamo ancora come dire strutturato con estrema precisione tutti i coordinamenti tutti i video di ultima lo stiamo facendo stiamo iniziando a dire alle persone chi deve portare cosa dove deve portarlo anche da un punto di vista parrocchiale noi abbiamo dato il via a decisioni di raccolta e anche di finanziamenti di viaggi perché ci sarà bisogno anche di donazioni per poter permettere ad altri autisti di avventurarsi in una crociata di questo tipo è sicuramente molto meglio avere un bus a disposizione per così tanta strada e così tanta gente con più autisti perché sono tante ore di viaggio imbarcarsi in situazioni di fortuna con macchine pulmini non è raccomandabile anche se ci dovesse essere l'unica soluzione probabilmente penseremo anche a quello le notizie di cronaca tenevano un capannone diversa merce sospetta e soprattutto un apparecchio disturbatore di onde radio utile a manomettere telecamere wifi e sistemi di allarme un 35enne rumeno residente a Casanova Lonati è stato denunciato per ricettazione e detenzione abusiva di arma aveva infatti anche un fucile e una pistola giocattolo priva del tappo rosso i carabinieri che hanno eseguito l'operazione stanno indagando sulla provenienza della merce elettrodomestici ricambi auto cosmetici in relazione a diversi furti segnalati nelle notti scorse e danni di camion in sossa nei pressi delle logistiche oltre padane ci sono delle novità per quanto riguarda la sparatoria avvenuta a Pavia in strada nuova e allora torniamo in diretta con Luca Pattarini Luca eccoci Paolo sì ci sono delle novità per quanto riguarda la persona che ha sparato il ricercato di origine albanese che ha sparato un suo connazionale un diciannovenne proprio qui alle mie spalle nello slargo di strada nuova all'imbocco del ponte coperto si sa che l'uomo è tornato è riuscito a tornare in Albania è riuscito a deludere i posti di blocco adesso assieme alla la polizia di stato stanno collaborando anche le forze di polizia albanesi per cercare di risalire al suo nascondiglio di certo siccome come ci aveva spiegato il prefetto alcune settimane fa alcuni giorni fa si tratta di una specie di agguato che è nato all'interno di un ambiente criminale non si esclude che questa persona quest'uomo possa avere degli agganci che lo stanno nascondendo proprio nel suo paese di origine quindi sarà difficile andarlo a trovare però di fatto c'è questa nuova svolta gli investigatori sanno che appunto la fuga di questa persona lo ha portato in Albania e da lì insomma continueranno le ricerche e le indagini nel frattempo il diciannovenne che è stato colpito da tre proiettili nella sera del 19 febbraio scorso sta meglio sappiamo che a sua volta ha parlato agli investigatori ha spiegato le motivazioni di questo agguato un agguato che sarebbe da insomma inserire all'interno di un contesto di una faida familiare di una lite tra due famiglie doveva essere un incontro per discutere appianare le divergenze si è trasformato appunto in un agguato con una sparatoria di sabato sera in pieno centro che aveva anche spaventato l'opinione pubblica ma che come detto era da inserirsi non in un gesto folle scaturito dopo una rissa ma appunto per un regolamento di conti all'interno della criminalità organizzata almeno questo è quello che ci è stato spiegato dalla prefettura staremo a vedere se gli investigatori riusciranno a risalire appunto al nascondiglio del killer o meglio dell'uomo che ha sparato che è accusato ovviamente di tentato omicidio e che si è arrestato rischia una pesante condanna per il momento è tutto Paolo ti restituisco la linea grazie sto facendo parlare tantissimo sui social quanto è avvenuto ieri a Corbetta in un distributore di benzina dove il prezzo alla pompa era di 5 euro sfiorava i 5 euro ha seguito per noi questa vicenda Stefano Galimberti ci colleghiamo con lui Stefano sì Paolo come era prevedibile per fortuna era un errore quello che ha riguardato il distributore della ESO sulla via Novara la strada statale 11 una delle principali direttrici del Magentino dove appunto ieri molti cittadini hanno pubblicato i loro anche improperi sui social dopo aver fatto benzina perché perché arrivando come vediamo dalle immagini dalla strada statale 11 entrando al distributore di benzina vedevano che il carburante costava intorno ai 2 euro al litro che come già tutti sappiamo è molto è una anche delle conseguenze delle tensioni internazionali in Ucraina ma poi una volta effettuato il rifornimento hanno visto che l'ammontare era invece di 5 euro al litro una situazione che ovviamente non era piacevole una situazione in cui il comune di Corbetta ha voluto annunciato che sarebbe intervenuto già oggi è di pochi minuti fa la dichiarazione del sindaco di Corbetta Marco Ballarini che conferma di aver parlato con la società che gestisce il distributore che si tratta appunto di un errore nella taratura della macchina di erogazione e l'azienda ha già attivato le procedure per i rimborsi per coloro che appunto pensavano di inserire del denaro per far benzina a 1 euro e 90 2 euro al litro e invece l'hanno fatta a quasi 5 euro al litro se Stefano un contrattempo però insomma diciamo che ci si può aspettare di tutto in questo periodo buona notizia dal fronte della pandemia i contagi continuano a ridiscendere c'è meno rischio la conseguenza è che da giovedì secondo direttiva regionale cadranno gran parte delle restrizioni per le visite a parenti a cari amici in ospedale e nelle case di riposo da giovedì 10 marzo in Lombardia riapriranno in tutti gli ospedali le visite ai parenti dopo due anni di stop infatti i pazienti avranno diritto a 45 minuti al giorno per stare con familiari e amici mentre per gli ospiti delle RSA non ci saranno più limiti di tempo per le visite anche per quegli anziani che sono positivi al virus naturalmente con le dovute precauzioni e con la sorveglianza del personale è così che regione Lombardia sta mettendo a punto le ultime regole per le visite negli ospedali e nelle case di riposo allineandosi alla legge nazionale del 18 febbraio con le norme da seguire per le strutture sanitarie fino alla fine dello stato di emergenza prevista per il prossimo 31 marzo le visite a pazienti anziani saranno però consentite solo a chi è in possesso del green pass rafforzato dunque chi ha ricevuto anche la terza dose mentre chi ha avuto il covid da meno di sei mesi dovrà anche fornire all'entrata l'esito di un tampone fatto entro le 48 ore secondo le nuove regole dunque negli ospedali l'orario di visita per ogni paziente potrà durare massimo 45 minuti al giorno ma sarà invece sempre consentito l'accesso degli accompagnatori dei giovani sotto i 18 anni delle donne in gravidanza degli anziani ovvero 80 delle persone straniere che non parlano italiano e delle persone in fin di vita intanto in attesa di giovedì e della nuova regolamentazione alcune strutture ospedaliere hanno iniziato ad aumentare il periodo di visita come al Policlinico di Milano al Fatebene Fratelli e al Sacco dove si è passati da una visita una volta a settimana consentita ad un solo familiare a visite di 45 minuti a giorni alterni per più visitatori visite più o meno con le stesse modalità anche al San Raffaele e all'ospedale dei Bambini Buzzi mentre al Santi Paolo e Carlo le visite sono ancora vietate poiché si aspettano le disposizioni definitive da parte della regione Le questioni che stanno facendo discutere nelle principali città del nostro territorio partiamo da Milano e dalle polemiche sulla viabilità in corso Buenos Aires che sono state rinfocolate dopo che il municipio ha chiesto un studio di fattibilità per dei pilomat L'idea di pedonalizzare Corso Buenos Aires non è nulla di nuovo se ne parla da tanti anni tra chi sostiene che sarebbe una follia per il commercio e il traffico e chi invece invita a parlare con i negozianti di Via Dante o di Corso Vittorio Emanuele per farsi un'idea di quanto un'isola pedonale possa essere una svolta positiva discorsi che piacciano o meno sono sempre rimasti nel campo dell'astratto senza mai guadagnare elementi di concretezza almeno fino ad oggi il municipio 3 ha infatti approvato quelle che ritiene le priorità da inserire nel piano delle opere pubbliche all'interno delle quali troviamo la seguente voce inserimento di barriere temporaneamente attivabili come per esempio dei pilomat lungo corso Buenos Aires in corrispondenza degli incroci per permettere la sua pedonalizzazione periodicamente e in sicurezza va detto non c'è nessun piano operativo per eliminare le auto da uno dei maggiori assi commerciali della città e l'obiettivo sembra quello di pedonalizzare la strada solo temporaneamente e in base alle circostanze ma è bastata questa ipotesi a scatenare le polemiche soffiando su braci dormienti se l'idea di corso Buenos Aires inaccessibile ad auto e moto piace all'assessora comunale al verde Elena Grandi che parla di un'ipotesi con un potenziale enorme dall'altra parte c'è un centrodestra che è pronto ad incatenarsi agli stessi incroci dove il municipio 3 pensa ad installare i pilomat Silvia Sardone non si risparmia dopo la ciclabile della discordia che ha fatto insorgere tutti dagli automobilisti ai ciclisti ai commercianti afferma la consigliera leghista i deliri della sinistra non si fermano e vanno a penalizzare tutti coloro che non vogliono piegarsi alla dittatura green della bicicletta o del monopattino e sulle questioni invece attualmente più spinose a Pavia è stato fatto un vertice un vertice politico di maggioranza riguarda il municipio il resoconto nel prossimo servizio un incontro richiesto dal sindaco fracassi con i segretari provinciali dei partiti di maggioranza e con i capigruppo di centrodestra si è tenuto nei giorni scorsi il vertice interno all'amministrazione del mezzabarba diversi i punti all'ordine del giorno anche se la fetta più ampia della discussione alla fine riguardato la cementificazione di via Marangoni che tante polemiche sta generando nella zona ovest della città l'ordine dei lavori ha individuato tre argomenti principali un aggiornamento sulla verifica di metà mandato la situazione di ASM Pavia e i rapporti con la provincia e con le municipalizzate di tutto il territorio sul tagliando di metà mandato non sono mancate le perplessità rispetto alla forma discussioni e analisi di questo tipo andrebbero fatte alla presenza dei consiglieri comunali di maggioranza e della giunta è stato sottolineato durante il vertice lo stesso sindaco però ha ribadito come in molti tra gli scrani del centrodestra si lamentano di non essere informati sull'attività dell'ente ma allo stesso tempo non partecipano agli incontri una stoccata che fracassi con ogni probabilità aveva in mente da tempo per quel che riguarda la situazione di ASM è stata ribadita da alcune forze politiche la necessità di portare avanti la due diligence così come votato proprio in consiglio comunale nelle scorse settimane il terzo punto è stato invece inserito nell'ordine dei lavori a pochi minuti dall'inizio del vertice unico aspetto degno di nota la polemica sollevata dallo stesso sindaco fracassi rispetto alla situazione della bronistradella pubblica il mondo del vino sta discutendo parecchio del provvedimento da poco approvato dal ministero che introduce dal prossimo anno il catastro digitale delle vigne vediamo di che cosa si tratta a partire dall'estate 2023 i vigneti saranno schedati in un sistema unico digitale con applicazioni grafiche e riferimenti satellitari un grande fratello agricolo insomma che in base a quanto previsto da un decreto del ministero dell'agricoltura approvato nei giorni scorsi si estenderà anche al comparto vitivinicolo una piccola rivoluzione innescata dall'unione europea che dovrebbe mettere ordine e garantire in modo ancora più puntuale la tracciabilità dei prodotti in particolare quelli a denominazione di origine protetta detti DOP ovvero nel vino DOC e DOCG e a indicazione geografica protetta o IGP che per il vino sono identificati con IGT i viticoltori dovranno quindi compilare il proprio fascicolo aziendale in modalità grafica e geospaziale aggiornandolo in caso di modifiche i dati del fascicolo dovranno quindi essere aggiornati dalle stesse aziende ma dovranno essere validati dalla regione il decreto approvato lo scorso 28 febbraio dal MIPAF è in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Ricordiamo che tra oggi e domani ci sarà il cambio delle frequenze in Lombardia per tutti i canali televisivi nazionali e locali per continuare a seguire i programmi di qualunque emittente sarà quindi necessario effettuare la risintonizzazione da quel momento in poi Milano Pavia TV non sarà più sul canale 89 dove ci avete seguito negli ultimi anni ma sul canale 78 se non riceverete più alcun canale televisivo significherà che il vostro televisore o decoder non è adeguato al nuovo standard quindi occorrerà acquistarne uno nuovo brevemente prima di lasciarci una notizia dal web perché prosegue la staffetta delle occupazioni nelle scuole superiori milanesi qui siamo sul sito del Corriere della Sera che titola Istituto Pareto occupato a Milano è il turno quindi del Pareto gli studenti dicono niente scuse serve una rivoluzione la maggior parte degli studenti aveva già scioperato la settimana scorsa restando fuori dai cancelli organizzando un picchetto respinta la proposta di cogestione del preside della scuola di Affori quindi il Pareto è occupato ci fermiamo vi ricordo che torneremo con le edizioni serali a partire dalle ore 19 buon proseguimento di giornata grazie a tutti Grazie a tutti.